Come genitore oggi hai accesso a tantissime informazioni, impensabili solo a dieci anni fa quando internet non è così sviluppato. Questo però aumenta anche la confusione e quindi non solo le informazioni contrastanti magari tra il pediatra, la scuola d'infanzia e i tuoi genitori, ma anche dentro internet dove trovi tutto e il contrario di tutto. Nella mia attività di psicologo della genitorietà da oltre dieci anni aiuto i genitori a fare un po' di chiarezza usando i video. Per questo ho pensato a questo canale, il mio bambino, perché ogni bambino è diverso, non ci sono ricette uguali per tutti, ma solo delle buone indicazioni, delle bussole che direzionano la strada. Allora se vuoi puoi iscrivermi, magari allegando un video della quotidianità, per riflettere insieme e io potrò osservare questi video e condividerli nel canale YouTube su quello che vuoi. Può essere l'alimentazione, l'allattamento, lo svezzamento, i piccoli capricci, il gioco, il gioco è una finestra preziosa per scoprire le grandi opportunità di questa età. Puoi iscrivermi a ilmiobambino-fabrizioguidi.it e mi raccomando, iscriviti al canale.